Anno nero, il 2016, in provincia di Teramo per maltrattamenti alle donne. La polizia ha riscontrato 22 casi di percosse, 144 di minacce, 46 maltrattamenti in famiglia, 10 violenze sessuali, 87 lesioni dolose e 36 uomini denunciati per atti persecutori, senza parlare del sommerso. Contro tutto questo, in occasione della festa della donna, la polizia di Stato ha deciso di scendere in piazza a Teramo con un camper aperto a chiunque voglia avere informazioni su come denunciare e sulle strutture di appoggio presenti sul territorio. E poi c'è il decalogo per quei comportamenti che devono essere considerati campanelli d'allarme di un atteggiamento che non è amore. Quale età hanno le donne che soprattutto denunciano? Ma l'età sono le più varie. Devo dire che nell'ultimo periodo c'è stato un grandissimo aumento di persone che, anche alla luce dei progetti proposti dalla polizia di Stato e in particolar modo da questo progetto, sono state invogliate a sporgere denuncia. Noi siamo un ufficio mobile e quindi oggi siamo pronti a qualsiasi evenienza. C'è il personale specializzato della squadra mobile che si occupa di reati in materia di persecuzioni, in materia di reati in danno alla persona, pronto anche a ricevere eventuali denunce, eventuali segnalazioni da poi poter sviluppare successivamente. A Teramo sono due le strutture che offrono uno sportello d'ascolto per donne maltrattate, il centro antiviolenza provinciale La Fenice e l'associazione Alicod. Causa, terremoto, mancanza di fondi, risultano invece chiuse le due uniche case rifugio operative fino a poco tempo fa in provincia. Nel 2013 abbiamo iniziato a rispondere soprattutto alle chiamate da parte della polizia per quanto riguardava lo stalker e non chi è vittima. Questo è il principio, noi possiamo anche togliere la vittima ma lo stalker troverà qualsiasi altra persona, dunque laddove è possibile anche cercare di aiutare questi uomini che mettono in atto comunque dei comportamenti disfunzionali. A chi è salito sul camper della polizia in piazza Martiri a Teramo per la festa della donna sono stati mostrati video sulla violenza di genere e un elenco di cattivi comportamenti da saper riconoscere. Se ti ricatta, se minaccia te o i tuoi figli, se ti isola, omiglia, offende, se ti perseguita con mail o sms ossessivi, se ti prende con violenza quando non vuoi, se ti chiede l'ultimo appuntamento, ecco tutto questo non è amore.